Musica Ci troviamo a Castelnuovo Rangone, siamo in provincia di Modena e oggi la nostra Margherita ci farà fare un giro un po' particolare perché ci troviamo al Musa, Museo della Salumeria Sì, intanto benvenuti, questo è il Musa della Salumeria voluto e progettato dalla ditta Villani Un po' di storia della famiglia Villani La famiglia Villani dal 1886 qui a Castelnuovo Rangone, proprio nello stabile in cui ci troviamo, aveva iniziato la produzione dell'arte della Salumeria un'arte che ha saputo tramandare, che ha saputo anche sempre valorizzare e aggiornare con le tecniche industriali più all'avanguardia Questo però senza mai dimenticare l'artigianalità e l'importanza del fattore umano Quindi in questo museo l'obiettivo è stato proprio quello di ricreare l'atmosfera di un'arte, quella salumiera appunto che richiede una grande passione, una grande artigianalità e professionalità chiaramente legata anche allo sviluppo industriale che ha fatto della Villani una delle ditte più importanti nel nostro distretto alimentare di Castelnuovo Allora il museo si compone di tre parti, sono tre sale Sì, è strutturato su tre sale, la prima in cui ci troviamo adesso è dedicata proprio a questo mix fondamentale tra il fattore umano e il fattore industriale Un fattore umano che deve avere delle conoscenze specifiche notevoli a partire dalla conoscenza di tutti i componenti che sono necessari per la preparazione della stagionatura di un salume quindi sale prima di tutto, parola chiave per noi perché sale, salume, salumeria è tutta una catena le spezie, le erbe aromatiche che sono dei componenti per noi straordinari e che caratterizzano ogni singolo salume Naturalmente l'uso delle macchine che ha aiutato l'uomo e ha portato la produzione a livelli industriali sempre qualitativi e poi la storia dei prodotti ogni singolo prodotto ha la sua storia con i suoi ingredienti chiaramente figure specializzate per la sua produzione quindi insomma è un museo estremamente ricco già a partire da questo primo piano al secondo piano ci teniamo particolarmente a raccontare la storia del tempo il tempo per noi è un valore aggiunto, la stagionatura richiede i suoi tempi e questo ci permette di arrivare alla produzione di ottimi prodotti abbiamo anche l'occasione di mostrarvi il prosciutto di San Daniele e il prosciutto di Parma che devono sottostare a dei disciplinari molto origini perché prodotti all'interno di consorzi che tutelano la qualità e la tradizione di prodotti straordinari che da sempre, fin dall'epoca tardo medievale, moderna sono stati conosciuti nei nostri territori e anche oltre e accanto a dei video che ci presentano dei dipendenti dei vari stabilimenti della ditta Villani sono tanti sono tanti stabilimenti, sì, sono cinque e la storia dell'azienda è riservata al secondo piano del museo dove vediamo proprio lo sviluppo intanto del territorio di Castelnuovo che oggi è un distretto alimentare che conta quasi 1500 dipendenti con un indotto tra l'altro molto importante quindi l'Emilia è una terra molto ricca, di questo noi siamo molto contenti siamo molto fortunati e questo è legato anche comunque al distretto alimentare di Castelnuovo quindi alla lavorazione della carne di maiale all'esportazione e a tutto l'indotto chiaramente che c'è dietro trasporti e quant'altro è una ditta che si è radicata molto sul territorio emiliano emiliano-romagnolo da Bologna a Parma a Bologna c'è lo stabilimento per la preparazione della mortadella che è il salume più famoso e più tipico di Bologna per arrivare fino all'Anghirano in provincia di Parma per la produzione del prosciutto di Parma una punta al di fuori della nostra regione è rappresentata dal Friuli dove a San Daniele c'è lo stabilimento chiaramente per il prosciutto di San Daniele con le sue particolarità organolettiche quindi insomma ci siamo espansi fino sotto le Alpi praticamente la produzione è divisa quasi ugualmente tra l'Italia e chiaramente l'export ecco a tal proposito quanto è importante l'internazionalizzazione del Made in Italy? oggi è straordinariamente importante questo è evidente la Villani ha una vocazione per l'export molto forte che nasce praticamente dai primi anni dell'azienda perché alcuni dei più importanti e famosi esponenti della famiglia Villani già ai primi del Novecento viaggiavano in America apprendevano tecniche di lavorazione meccanica industriale in America per poi importarle qui in Italia, farne uso e applicarle alla produzione dell'arte salumiera New York è stato uno forse dei primi mercati della ditta Villani quindi da sempre l'export per questa ditta è sempre stato estremamente importante e in un contesto globale come quello di oggi ci permette anche di portare prodotti di qualità chiaramente in Europa non solo in Europa, in tutto il mondo abbiamo uno stabilimento in America Latina stabilimento che è di smistamento non è produttivo, è proprio di distribuzione per il resto la Villani arriva a toccare tutti i mercati mondiali quindi questo è per noi estremamente importante tra l'altro questo è l'anno dell'expo quindi è una doppia vetrina perché noi siamo già presenti all'estero ma all'expo avremo anche l'opportunità insomma di consolidare la nostra immagine all'esposizione che insomma è un'opportunità incredibile insomma in cui la Villani sarà presente dell'ultimo piano ne abbiamo parlato? l'ultimo piano abbiamo una sezione dedicata alle legature le legature è uno dei passaggi fondamentali nella produzione del salume è un'arte che richiede una certa manualità l'avete fatto in modo un po' particolare abbiamo voluto delle forme trasparenti che dessero l'idea proprio della leggerezza e semplicemente della forma abbozzata del salume molto belle per mettere in evidenza invece la complessità di una legatura che è fatta di passaggi e fatta di nodi e che come dicevo prima richiede una manualità straordinaria abbiamo chiesto che i nostri dipendenti potessero procedere lentamente per mostrare alle persone qual è il procedimento per la legatura ma è talmente tanta l'abitudine e il movimento delle mani che per loro andare piano era praticamente impossibile la legatura è tra l'altro comunque un passaggio fondamentale perché aiuta a mantenere la forma del salume che nei vari passaggi potrebbe perderla soprattutto in passaggi come la cottura o la stufatura la legatura aiuta a mantenere in forma l'insaccato quindi è estremamente importante poi c'è una parte appunto dedicata alla storia aziendale e quindi legata ai fondatori della Villani con un occhio anche alla storia dell'export chiaramente e con alcuni pannelli che illustrano le caratteristiche di ogni singolo sito produttivo in modo tale di avere una panoramica insomma il più completo possibile sull'azienda, sulla sua storia, sul radicamento non soltanto qui ma dovunque insomma la Villani sia riuscita ad arrivare C'è un ruolo molto importante nella produzione dei salumi è quello che ci spiegavi prima del fatto con l'osso di cavallo ci sono dei passaggi estremamente importanti per salumi chiaramente di altissima qualità questo è anche di responsabilità si stiamo parlando di figure che lavorano per i consorzi quindi per il consorzio del prosciutto di Parma e di San Daniele un po' come il naso per la profumeria no? eh beh di fatto il naso anche per la salumeria sono diventano strumenti di lavoro le mani e gli organi del corpo diventano degli strumenti di lavoro perché il profumo rilasciato dall'osso di cavallo con cui si praticano cinque buchi sul prosciutto in zone ben definite questi profumi vengono captati chiaramente dal naso e in base a questi profumi il puntatore è in grado di capire se la maturazione e la stagionatura sta procedendo nel migliore dei modi o se per tutta una serie di motivi ci sono depositi di sale e depositi di sangue che vanno a incidere negativamente sulla carne, sulla maturazione, la stagionatura della carne a quel punto il pezzo viene tolto dalla catena produttiva diciamo così del consorzio e si tengono soltanto chiaramente i pezzi perfetti perché far parte di un consorzio vuol dire essere in grado di mantenere un livello qualitativo veramente alto come giusto che sia questa è una parete dedicata ai tagli interi agli insaccati tutti di produzione villani ci tengo in modo particolare a fare vedere il cotechino e lo zampone che sono una tipicità specifica di Modena e della sua provincia in modo particolare di Castelnuovo un impasto di carne tritata con la preparazione di sale chiaramente spezie e pepe insaccate nella pelle o della zampa del maiale e quindi zampone oppure nel collo che è una pelle molto più sottile del cotechino e non c'è prodotto italiano che non sia legato ad una storia e quindi noi facciamo risalire la nascita dello zampone del cotechino agli assedi che Modena ha dovuto subire da cui si è dovuta difendere contro le truppe papali che cercavano di chiaramente invadere e conquistare Modena e qualcuno per conservare la carne e avere delle scorte di cibo ha avuto l'intuizione di stagliuzzare sminuzzare la carne inserirla dentro la pelle di maiale per poterla conservare quindi abbiamo anche questa bellissima storia e leggenda che arricchisce ulteriormente un prodotto che è veramente tipico qui invece vorrei farvi vedere alcuni degli strumenti che sono stati usati per tantissimo tempo all'interno della Villani e che fanno parte del bagaglio di qualsiasi artigiano dell'arte salmiera strumenti che avevano il manico in legno e la lama in ferro chiaramente oggi gli strumenti sono completamente diversi anche se le forme sono più o meno uguali la coltellina da crudo è ancora tale quale come la sgorbia che serviva per disossare i prosciutti strumenti che oggi sono anche adeguati chiaramente alle norme di sicurezza mentre questi creavano alcuni problemi perché un manico di legno intanto si può scheggiare quindi la scheggia può finire nell'impasto e non è il massimo il ferro tende a ossidare a diventare nero e a rilasciare un sapore metallico e quindi a guastare un po' il sapore in bocca e il manico ancora una volta di legno a contatto con il grasso e anche con il sangue della carne tendeva a diventare scivoloso e quindi abbastanza pericoloso per l'operatore infatti conserviamo anche dei presidi di sicurezza come dei guanti e delle pettorine in acciaio che erano i sistemi di sicurezza che una volta erano in uso per proteggersi durante le fasi di lavoro Margherita noi ti ringraziamo tantissimo iniziamo il nostro tour all'interno del museo e veramente ci stai facendo scoprire un mondo che è molto ricco molto affascinante che parte da lontano e io credo arriverà ancora più lontano quindi grazie a voi grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti